La pagina sportiva è dedicata al calcio mercato di Serie C, in studio qui con me c'è il collega Massimo Profeta al quale chiedo subito quali novità sono emerse nelle ultime ore. Ciao, intanto un saluto a te e tutti gli amici in visione e all'ascolto. In realtà non ci sono notizie ufficiali, l'unica in uscita sta per essere annunciata dal club Biancazzurro riguarda Marilungo, ma ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, Marilungo che andrà alla Prosesto, manca soltanto l'annuncio da parte della Pescara e della Prosesto, il classe 89 è stato sfortunato, una parentesi non proprio felice in questi sei mesi di militanza in Biancazzurro. Per quanto riguarda invece le altre trattative, ieri abbiamo anticipato, possiamo vedere anche la notizia pubblicata nella serata, ieri sul nostro sito www.retteotto.it, la possibilità che Galano torni al Bari. Però insomma queste sono operazioni ad incastro, Gigliola, perché ci siamo informati, abbiamo ascoltato anche l'ADS del Bari Ciro Polito che ha detto testualmente, abbiamo la lista piena, tra l'altro il Bari sta per annunciare Maiello dal Frosinone. Il Bari ha proposto uno scambio con Pescara, ovvero Di Gennaro che è un centrocampista di qualità che conserve alla squadra di Gaetano Oteri, oppure in alternativa Citro che è un attaccante dell'89 ex Trapani, anche questo calciatore non interessa al Pescara, quindi situazioni, operazioni ad incasso per quanto riguarda Galano, rimane sempre l'interesse, la possibilità che Galano torni al Bari. Si è parlato in queste ore anche di Misuraca, Misuraca è un centrocampista di grande esperienza, classe 90 in uscita dal Pordenone, una colonna del Pordenone, ha vinto anche il campionato della stagione 2018-2019, la storica promozione in B della formazione friulana, allora allenata da Tilio Tesserre che guida invece quest'anno il Modena, capolista del girone B del campionato di Serie C insieme con la Reggiana. Insomma, Misuraca in realtà, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, non sembra proprio il profilo adatto al centrocampo del Pescara perché è un centrocampista di qualità che ha cambiato ruolo nel corso degli anni, era un esterno offensivo, un trequartista, adesso gioca da centrocampista centrale o da mezzale in un centrocampo a tre, diciamo che in un centrocampo a due non è la prima scelta, una sorta di clone per farci capire un po' da tutti coloro che sono in visione all'ascolto di Memushai, quindi staremo a vedere, anche questa è una trattativa comunque da seguire. Per quanto riguarda invece la pista a lungo, sembra che ci sia davvero di interesse da parte del Pescara di prendere questo giocatore che viene da sei mesi non tutt'altro che felici nella Vicenza, soltanto otto presenze, un gol, non gioca una partita dal primo novembre per guai fisici e anche per scelta tecnica nel confronto con il Parma, il Parma nel cui fila, lo ricordiamo, Milita Buffon, poi il Samuele Longo bisognerà vedere se davvero vuole scendere di categoria, ricordiamo Samuele Longo è stata una promessa del calcio italiano, ha compiuto da poco 30 anni e quindi diciamo che anche in questo caso è una situazione da monitorare e da capire soprattutto bene quali sono le reali intenzioni di questo attaccante. Facendo un riepilogo delle operazioni del Pescara, in entrata quelle ufficializzate, Derisio, Lazzcano che è un centrocampista spagnolo classe 2003 che ha convinto in poco tempo a Uteri, oggi giocherà con la formazione primavera di Iervese, ricomincia a proposito del campionato primavera 1, il Pescara sarà di scena alle 16.30 sul campo del Sassuolo, ci saranno le sorte ufficiali, sebbene in primavera di Lazzcano, l'altro giocatore che è stato preso proprio lunedì scorso, abbiamo anticipato la notizia nel corso della trasmissione solo calcio, il difensore centrale, un marcatore Ierardi, classe 98, in prestito secco dal Vicenza. In uscita le operazioni già ratificate, Radaelli, giovane portiere all'Alcione Milano, formazioni di serie D, Valdifiori che ha risolto il rapporto con il club Biancazzurro, Sanogo era un prestito e è tornato alla Benevento, Marilungo abbiamo detto, manca solo l'annuncio alla Pro Sesto, bisognerà capire Galano, poi Rizzo sembra destinato al Messina, ma c'è ancora qualche dubbio, Bocic piace alla Fermana, però si potrebbe profilare per il serbo classe 2000 una pista estera e poi De Marchi, abbiamo anche in questo caso anticipato la notizia qualche giorno fa sul nostro sito, De Marchi piace al Sud Tiroli. Intanto sarà campionato tra due giorni, praticamente ci siamo perché il Pescara sarà di scena a Viterbo, sul campo della squadra laziale che ultima in classifica si è rinforzata in questa sessione di mercato, tornano a disposizione di Auteri, Gigliola, sia i Gianess che Pompetti, Pompetti farà coppia a centrocampo con Derisio, mancheranno però Frascatore, Cancellotti e Drudi. Per quanto riguarda invece il Teramo, il Teramo è molto attivo e concludiamo, il Teramo ha fatto tante operazioni, sia in entrata che in uscita, intanto in entrata è arrivato Cisco, Andrea Cisco, che è un esterno d'attacco, il conosciamo perché Pescara ha militato nei primi sei mesi della stagione 2019-2020, arriva in prestito secco dal Pisa, il Teramo potrebbe annunciare nelle prossime ore un altro esterno d'attacco che può giocare anche da centravanti, Daniele Sorrentino, classe 97, che arriverebbe, usiamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore dalla Reggiana, perché arriverebbe e usiamo il condizionale? Perché questa operazione è legata all'accessione, all'uscita di Mungo, ebbene anche in questo caso c'è qualche dubbio perché Mungo è stato richiesto dalla Viterbese, non rientra più nel progetto societario del Teramo, ha la stima incondizionata di Guidi, Mungo vorrebbe restare a Teramo e quindi non si è ancora deciso, è una fase di stallo che si protrae ormai da un paio di giorni. Le altre operazioni che sono state ufficializzate dal Teramo, un'entrata Forgione e Papassiero dal Fiuggi, De Grazia dalla Piacenza, tra l'altro è già andato a segno nella trasferta di Pesaro, Mordini dalla Fermana, Codromaz, difensore esperto nel 95 dalla Piacenza, D'Andrea, che è un attaccante, è arrivato in prestito dalla Serditana, nei primi sei mesi di questa stagione ha militato nell'Esseregno, un solo gol, lo scorso anno sei nel Foggia in Serie C e poi abbiamo detto Cisco, è arrivato proprio oggi classe 98 in prestito secco dal Pisa e probabilmente sarà anche concretizzata un'altra operazione in entrata, quella di Daniele Sorrentino, in prestito dalla Reggiana. Le uscite, Birligea al Clujiclub rumeno di Serie A, Piacentini al Modena, Rillo al Piacenza, Chiere Matenga alla Fermana, Surricchio alla Roma, Jacopo Surricchio un classe 2006, Teatino Doc, due presenze nel campionato di Serie C, in prestito oneroso con diritto di riscatto alla Roma, Didio al Picerno, Tozzo in prestito al Seregno e poi Lombardo che dovrebbe accasarsi alla Vibonese. Il Teramo sarà di scena domenica sul campo del Limolese. La chiusura di questa sessione invernale di mercato ricordiamo lunedì prossimo alle ore 20. Gigliona.